Siamo a Cersaie con Matteo Deitos, CEO ITLAS, e a lui chiediamo con quale spirito e quali novità si presenta ITLAS qui in fiera. Intanto buongiorno a tutti, ITLAS in fiera e il Cersaie 2024 sicuramente lo spirito è positivo, insomma dobbiamo essere positivi. Le novità che presentiamo, noi siamo arrivati per quanto riguarda i pavimenti, abbiamo sempre detto ai nostri clienti che noi siamo in grado di realizzare i loro progetti, quindi abbiamo deciso di portare in fiera dei materiali che potessero dimostrare che siamo in grado di realizzare i progetti dei nostri clienti. Per quanto riguarda i mobili da bagno abbiamo portato qualche piccola novità e un modello nuovo per quanto riguarda il bagno. Le piccole novità riguardano una laccatura sul modello già esistente e dopo c'è un nuovo mobile da bagno ed infine abbiamo quello che riguarda il rivestimento delle pareti dove portiamo un nuovo prodotto per quanto riguarda le righe che sono il nostro prodotto da rivestimento delle pareti in legno e portiamo anche tutte le altre finiture per quanto le righe, le righe slim, le righe normali e le righe maxi che è la novità di quest'anno. Grazie. Grazie. Grazie.